Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo sono tornato con la BC dei pesci Quest'oggi sono tornato con il cavedano Oggi bene o male andrò a spiegarvi come pescare il cavedano a spinning Un'introduzione su di esso, l'attrezzatura che ci vuole e qualche piccolo consiglio Dunque mi raccomando superiamo gli 80 like anche per questo video ragazzi E quindi mi raccomando lasciatemi un piace, condiviate i video, iscrivetevi al canale Se non siete anche iscritti passate ai social Comunque date un'occhiata qua sotto nella descrizione ci sono tante informazioni importanti Vi ho fatto anche un piccolo riassunto del video e anche delle cose che capirete tra poco Quindi via con la sigla! Dunque prima di iniziare ci tengo a sottolineare che come sempre le mie sono linee guida La pesca è bella perché varia, è piena di piccole sfaccettature che rendono diversa ogni pescata e ogni zona da battere E quindi sempre divertente Posso parlare nello specifico di un pesce in particolare di cosa prendere esca che funziona sempre Perché è impossibile che esista per qualsiasi pesce Soprattutto in questo caso che stiamo parlando di un pesce che vive ovunque Dall'acqua dolce a quella salmastra, dai piccoli torrenti ai grandi fiumi, laghi e canali Quindi un sacco di ambienti e un sacco di abitudini diverse E quindi anche diverse alimentazioni Senza star là a parlare di stagioni e attività Il che vedono a mio parere uno dei pesci d'acqua dolce più belli da poter catturare Non più belli per la Livrea, io sì, guardo anche la Livrea Però quello che guardo nel pesce è il divertimento che mi fa avere E devo dire che il Cavedra è uno dei più divertenti Soprattutto perché già di piccole taglie può tirare degli attacchi veramente pazzeschi Parliamo del primo attacco che è da strappacanne Senza parlare delle tantissime testate che continuano ad avere durante il combattimento E una cosa bella di questo predatore è che lo troviamo praticamente in tutta Italia Parliamo un po' del Cavedano Questo pesce può raggiungere dimensioni ragguardevoli Infatti riesce ad arrivare a 60 cm di lunghezza e quasi 3 kg di peso Una buona taglia senza contare il fatto che è molto forzuto La sua alimentazione varia molto Possiamo trovare a mangiare piccole bacche, piccoli frutti come moree e ciliegie A insetti, piccoli pesci e gamberi Dunque andiamo a parlare dell'attrezzatura Cosa abbiamo bisogno per prendere questi Cavedani a spinning? Allora la nostra scelta ricade su attrezzature molto leggere Partiamo dalle cani che sono denominate light ed ultra light In genere hanno una lunghezza dal 1,60m ai 2,30m Le canne che possono andare bene per la pesca che vedono In genere possono partire da lanciare 0 g fino a un casting massimo di 15 g Dopo sta a voi scegliere la canna più adatta alle vostre esigenze Soprattutto alle esche che andrete a lanciare Si possono utilizzare sia canne con punta tubular Ovvero una canna normalissima con la punta cava Quindi canne adatte a gestire praticamente tutte le esche Sia crank, ondulanti, cucchiaini e anche gomme In particolare hardbait quindi crank, minov, ondulanti Oppure si può puntare a una solid tip Ovvero una canna che ha la cima in estate in carbonio C'ha un piccolo innesto Dipende dalla canna, dalla lunghezza e dal modello Che permette ottima sensibilità Che però la si può utilizzare solo con siliconici e ondulanti Però attenzione si può utilizzare È una canna creata per quello scopo Ovviamente ci puoi lanciare e recuperare anche le hardbait Nessuno te lo vieta Però è molto molto scomodo Ed è meglio prendere una canna adeguata In commercio vi sono molte canne adatte a questa pesca Ad esempio si può utilizzare una canna trottaria Una canna trottatorrente Una canna da rockfishing Se guardate qua la descrizione Se siete interessati a comprarvi una canna Vi lascio 5 opzioni Vi lascio 2 canne da spinning di fascia media Una solid tip quindi per l'utilizzo di gomme e spoon Che è quella che utilizzo anch'io E una tubolar che quella è un muletto che può tirare su di tutto Però anche quella solid È in grado di tirar fuori dei bei pezzi In più vi lascio 3 canne di fascia medio alta Di cui una trottare che uso anch'io E due Una solid e una tubolar Che si adattano molto bene Queste ultime sono per chi cerca un qualcosa in più della canna Andiamo a parlare dei mulinelli quindi Con i mulinelli andremo a scegliere delle taglie come 1000, 2000 e 2005 Sono le taglie più adatte Ovviamente 1000 Quella che vi consiglio di più è la taglia 2000 È un misto tra le due Infatti così abbiamo un misto tra leggerezza del 1000 E bobina larga, capiente E soprattutto che permette un lancio maggiore del 2005 E qui sotto come con le canne vi lascio 2 opzioni Un mulinello di fascia un po' più alta E uno di fascia media Come fili da imbubbinare abbiamo due opzioni principali Ovvero Prendere un fluorine o un nylon Dello 0, 14, 16 o 18 E utilizzare quello Oppure la più consigliata Prendere un trecciato di taglia 006 o 008 E con un nodo di sangue Attaccarci un monofilo Che può essere nylon Che può essere fluorocarbon Che può essere fluorine Sempre di un diametro variabile tra il 14 e il 18 Infine andiamo a parlare delle esche Per il che vedono come con le canne Si possono utilizzare veramente un sacco di esche Infatti possiamo passare da esche da 2 cm per 1 grammo di peso A esche di 10 cm per 15 grammi di peso Parlando sia di esche rigide che di siliconici Le categorie di esche rigide che possiamo utilizzare per la pesca del che vedono Sono le seguenti Vi lascio anche delle piccole indicazioni su peso e grammature generali Dopo ogni posto un po' può variare Onduranti che si vanno a utilizzare da 0,8-1 grammo Fino ai 7 grammi più o meno Cucchiaini più o meno sempre la stessa storia 1 grammo 5 grammi Popper VTD dai 3 ai 6 cm Jerk e Minnow da 4 a 9 cm I Crankbait da 3 a 8 cm Le taglie più grosse sono bene o male le taglie per i caveterni un po' più di taglia O comunque sono caveterni abituati a mangiare su pesci Lipless Crankbait fino a 10 grammi E Metal Jig fino a 12 cm Parlando invece di gomme possiamo usare le forme più svariate Possiamo utilizzare Shad ovvero piccole imitazioni di pesci in gomma fino agli 8 cm Imitazioni di insetti che vanno dai 3 cm fino ai 6 cm Imitazioni di piccole rane che molto spesso a galla o in superficie danno anche a gomme spiombate Hanno la loro efficacia in certi posti Imitazioni di piccoli vermi fino a 12 cm anche Capita spesso di pescare a dropshot anche con vermi lunghi e avere molte mangiate Infine come facciamo innescare queste esche Possiamo utilizzare testine piombate che possono partire da 0,8 grammi fino a 12 grammi Innescarli a dropshot Oppure caroline a rig Volendo per pescare sia spiombati che piombati si può utilizzare walkie e texas Volendo anche un'altra tipologia che ha reso molto è la shaky head Il caverone infatti ha un comportamento che in base alla stagione In base a condizioni di cibo, fattori climatici, temperatura dell'acqua Cambia completamente i suoi movimenti Fasce d'acqua e abitudini alimentari Per questo c'è una così vasta gamma di esche Soprattutto perché lo possono trovare ovunque Quindi non è detto che nello stesso corso d'acqua A una distanza di anche 50 km Il pesce mangi sullo stesso tipo di esca Quindi per esempio mettiamo che su un corso d'acqua Su un punto i caverone mangiano con un crankbait A caso Esca presa a caso Magari 20 km più in giù o 20 km più in su E i caverone non lo mangiano Perché hanno abitudini alimentari diverse Eccetera eccetera 20 km e il crankbait sono due scelte Messe così per farvi capire la situazione Ho visto veramente caverani mangiare di tutto E esche anche di belle dimensioni Può capitare ricercando il luccio Ricercando il bus Può capitare ovunque Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate like, condividete il video Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Lasciatemi anche un feedback qua sotto con un commento Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Ciao a tutti Ciao a tutti